Ciao ragazzi, presentatevi. Ciao, sono Bombardino. Ciao, sono Stecca. Prima di iniziare, volete salutare 5 persone che hanno chiesto di essere salutate nello scorso episodio? Ok, allora saluto il mapper in talo inglese Luigi Ruff, Playmaster e Andrea650. Allora saluto The Hulk, Sergio, Benito Piccioni, Guido The Boss, Thomas Rapanelli e Daniele Daniele. Stecca, Bombardino, sapevate di essere i brawler più ricercati nelle mie interviste doppie? No, sinceramente non pensavo di essere ricercato. Una domanda un po' particolare, visto che siete dei robot, chi vi ha costruiti? Noi non siamo robot, siamo già stati costruiti in questa maniera e quindi ci ha creati la Supercell. È vero, noi siamo dei robot, ma ci hanno già costruiti così. Stecca, è vero che ci dà delle caramelle? Ti sbagli, non sono caramelle giganti, sono soltanto palloni da calcio. Bombardino, una curiosità, ma quel pupazzo che hai in mano, come si chiama? Ma che domande sono, quel pupazzetto che ho in mano si chiama Rabbit. Secondo voi, chi è il più forte fra voi due? Sicuramente il più forte tra noi due è Stecca, visto che fa un botto di danno di più di me. Il più forte fra noi due può essere Bombardino. Ma tu e Bombardino, siete fratelli oppure qualcos'altro? Io e Bombardino siamo cugini. Io e Stecca siamo cugini, ecco perché ci assomigliamo. Bombardino, vedo che hai la tunica dello stregone, ti piace? Sì, sono un grande fan dello stregone di Clash of Plans o Clash Royale. Stecca, tu sbattiti la pancia e tu Bombardino canti una canzone. Cerco di far finta di niente, mentre guardo queste scene velocemente. Io le guardo con aria e non c'entra e penso che sia proprio un deficiente. Avete già avuto un modo di vedere qualche episodio di questa serie? Se sì, qual è l'episodio che vi è piaciuto di più? Sì, ho già avuto un modo di vedere questa serie, quindi mi è piaciuta veramente tanto. L'episodio che mi è piaciuto di più è quello di Colt e Dynamite. No, non ho ancora avuto un modo di vedere la serie. Qual è il vostro piatto preferito? Il mio piatto preferito sono le lasagne al pesto. Il mio piatto preferito è la pizza con i carciofi. Qual è il brawler che preferireste avere come amico? Un brawler che vorrei avere come amico è Corvo. Il brawler che preferirei avere come amico è Leon. Bombardino, ma le altre tue versioni sono dei cloni oppure sai cambiare aspetto a tuo piacimento? No, le altre mie versioni non sono dei cloni, sono io che so cambiare aspetto a mio piacimento. Stecca, tu prima hai detto che quelle che hai nel tuo stomaco sono dei palloni. Invece quelle palline che hai dentro la pistola, che cosa sono? Quelle nella pistola sono piatruzze colorate. Passiamo a delle domande un po' sul personale. Di solito, in che modalità preferite giocare? Poi successivamente mi potreste dare una motivazione per il quale preferite giocare in quella modalità rispetto alle altre? La modalità che preferisco giocare io è Raffa Gemme perché è molto più comodo che io giochi ad Raffa Gemme visto che attacca a distanza e quindi è molto più semplice giocare lì. Io preferisco giocare nella modalità sopravvivenza perché mi è molto più semplice giocare lì. Che consigli dareste alle persone per migliorare a giocare? Un consiglio chiedere alle persone di giocare è quella di non camperarsi. Visto che voi due seguite la serie, ditemi con chi è stato girato lo scorso episodio. Se non erro è quella di Carlo e Eugenio. Stecca e Bombardino, avete 5 secondi a partire da adesso per dire a tutti gli spettatori qualcosa. Pronti? Via! Ok allora iscrivetevi a questo canale con la campanellina attiva perché a 15.000 iscritti faremo la parodia di Calma Remix. Iscrivetevi al canale con la campanellina, condividete con tutti i vostri amici e lasciate un bel like. Dai tutti quanti in questo momento a lasciare like voglio che raggiungiamo i 100 like ora. Stecca, Bombardino, sono stato veramente felice di avervi avuto qui come ospita a questo Brawl TG Live. Salutate tutti gli spettatori che vi stanno guardando in questo momento. Ciao ragazzi, spero di vedervi il primo possibile. Ciao ragazzi, alla prossima!